Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha intensificato in occasione del periodo di carnevale le attività di controllo, prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Nelle ultime settimane le fiamme gialle hanno individuato più di 11.000 prodotti non sicuri, comprese accessori per il carnevale, oggettistiche e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi in violazione del codice del consumo e della speciale normativa di settore. I succitati prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l'uso. Le operazioni di servizio condotte dalla Guardia di Finanza confermano il costante impegno del corpo nell'attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della contraffazione e del commercio di prodotti non conformi e non sicuri, a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali.